sei insegnante di doppiaggio e recitazione recitazione specialmente quella vocale quindi specialmente quella microfono per cui dizione lettura espressiva recitazione a microfono doppiaggio ma anche adattamento dialoghi perché comunque è una cosa diciamo molto inerente al lavoro del doppiatore e quindi sì insomma ma non è da ieri nel senso che sono anni oramai che metto a disposizione le mie competenze diciamo in chiave didattica quindi hai fatto anche radio radio beh allora radio si può fare in due modi o fare il solito dj cosa che ho fatto prima di fare l'attore quando avevo 17 anni quindi quella quarantina d'anni fa mettiamo mettiamo così e oppure l'ho fatta anche da attore ma era diverso il discorso perché erano quei famosi radio drammi che una volta si facevano molto più spesso e alcune delle mie prime esperienze qui a torino come attore vocale furono proprio in in quell'ambito lì ricordiamo il primo caso fenomeno di invasione aliena radiofonica che creò il panico d'america chiaro grazie alla capacità dei personaggi ma infatti era era la dimostrazione del potere che ha la voce quando è abbinata musiche magari particolari a suoni effetti speciali particolari la voce può creare degli scenari addirittura insomma catastrofici come in quel caso è ovvio che adesso esperimenti di quel genere insomma avrebbero meno fortuna perché oramai siamo un po più smaliziati ma all'epoca questo era quando iniziato a fare doppiaggio io ho iniziato a fare doppiaggio diciamo attorno ai 21 anni cominciando andare a presentarmi sulla piazza di milano nei posti dove si faceva e quindi ho fatto un due annetti di gavetta poi ho incrociato il mio primo protagonista che era mirko dei biaile non quando cantava ma solo quando parlava ma perché non guardi dove vai ah sì e non pensi che potrei domandarti la stessa cosa anch'io senti un po perché non mi aiuti a raccogliere tutte queste cose vediamo un po come ti chiami ehi dammi qua ma come ti permetti di metterti a leggere i miei quaderni curioso perché ti arrabbi tanto una ragazza così carina non dovrebbe arrabbiarsi in questo modo non prendermi in giro e allora da lì in avanti diciamo che ho intercettato questa stagione irripetibile dell'avvento dell'animazione giapponese in italia in quantità insomma industriali dal momento che un emittente televisiva aveva deciso di puntare molto su questo nuovo materiale per cui ho avuto la fortuna di avere l'età giusta e la voce giusta nel momento giusto ti hai fatto diversi personaggi sicuramente il più conosciuto è pegasus è arrivato qualche anno dopo è arrivato quando ne avevo 27 28 di anni non più 23 come all'epoca di mirko però certo anche quel personaggio faceva parte diciamo di quella ondata ed era inserito all'interno di una di un mondo di una saga che poi avrebbe avuto una certa fortuna hai dato voce a un personaggio del film che poi in realtà è l'unico film che ha fatto mia zaki di lupen di lupen si il castello di caliostro il conte di caliostro si è un film che ha avuto addirittura figuriamoci possiamo dire tre tre doppiaggi due negli anni 90 uno fatto a roma dove non c'ero assolutamente e uno fatto a milano dove invece già doppiavo il il conte di caliostro poi verso il 2000 2007 2008 non mi ricordo comunque è stato poi ridoppiato un'ultima volta proprio perché uscisse al cinema perché i doppiaggi degli anni 90 si erano visti solo sentiti solo in un video e invece per quella operazione più cinematografica sono stati richiamati diciamo i colleghi romani che davano le voci più importanti ma sul conte di caliostro sono stato confermato io anche perché insomma il collega che l'aveva fatto negli anni 90 comunque o era già morto era molto anziano quindi in ogni caso insomma era una scelta un po obbligata comunque sono sono grato al direttore del doppiaggio al distributore che mi ha confermato sostanzialmente su sul conte di caliostro bel film appunto l'unico di mia zaki all'interno della saga di lupin quindi una chicca diciamo tra vari personaggi abbiamo anche in forza campioni una serie televisiva incredibile perché a noi piace il calcio di calcio certo quindi avete un ricordo migliore del mio io di quella esperienza ricordo pochissimo forse il nome del personaggio che mi pare fosse roberto roberto però lo so più perché me lo hanno ricordato appunto gli appassionati che non perché me lo ricordi io di mio quindi so dirti poco di comunque di materiale sportivo in cartone animato insomma ne è arrivato sicuramente ma la cosa più famosa che ho fatto in questo ambito riguardava invece la pallacanestro ed era slam dunk dove doppiavo uno dei due protagonisti diciamo se ricordi professore non è educato a disturbare le persone che dormono ma che voce hai c'è il personaggio che tra questi che hai fatto anche serie televisive che ti prende hai sentito un po più tuo perché sei riuscito a dargli un'immagine un po diversa rispetto all'originale beh vabbè diciamo Pegasus è il caso classico se tu mi parli di una come dire mia reinterpretazione pesante rispetto all'originale e quindi devo confermare questo personaggio che comunque è quello per cui sono più noto viceversa mi sono piaciuti indipendentemente da quest'ultimo discorso dell'originale o meno anche altri personaggi ovviamente di cui ricordo sempre nel anime samurai seven che era una ennesima rilettura dei sette samurai di kurosawa dove c'era appunto questo capo samurai molto carismatico più vicino alla mia età anche mettiamola così con la tunica bianca barba fluente il capello insomma mosso una specie di Gesù Cristo con la catana dico sempre insomma e quello anche mi è piaciuto veramente molto peccato che in quel caso dopo quei 26 episodi niente insomma il discorso si è chiuso lì abbiamo visto che comunque è una sfilza di videogiochi è più facile fare il cartellamento o il videogioco? dipende perché nel doppiaggio dei videogiochi noi nel 90% dei casi non vediamo non vediamo il filmato per cui non siamo nella condizione in cui di solito si fa il doppiaggio insomma quello classico per cui non vediamo i volti non vediamo gli occhi non vediamo le distanze tra i personaggi non vediamo la situazione non sentiamo nemmeno che musiche eventuali possano esserci sotto quindi lavoriamo non in presenza del prodotto finito ancora in realtà quello che sentiamo sono le battute dette dagli attori anglosassoni le ascoltiamo e più o meno cerchiamo di replicarne l'intensità con un adattamento possibilmente fatto bene e per cui per cui è più difficile in realtà è più tecnico perché a quel punto non vedendo nulla assolutamente devi mettere dell'enfasi sperando che più o meno collimi con quanto hai sentito nell'originale non vedi le facce non vedi se uno sta urlando lo senti sì però in realtà non lo vedi quindi comunque non è il massimo poi non ci sono le battute degli altri personaggi se tu hai un dialogo tu doppi solo le tue battute ti viene spiegato per sommi capi quello che dicono gli altri ma in realtà né vedi né senti gli altri come invece nel doppiaggio tradizionale quindi è tutto molto più tecnico e oltretutto è spesso repertorio anche faticoso per la voce perché si si diamo pure per scontato che i diciamo i fruitori di videogiochi siano tutti bravi ragazzi per carità di dio dopodiché comprano sempre guerre spie questi argomenti qui alla fine no e per cui ci sono cose un po faticose sporcature urla insomma azione con con grida eccetera eccetera insomma che mettono anche a dura prova insomma le nostre corde vocali se uno vorrebbe iniziare parliamo di attività imparare questo mestiere sì allora che cosa dovrebbe che cosa dovrebbe pensare dovrebbe pensare di studiare edizione e recitazione innanzitutto che sono le nostre basi chiaramente quindi fare un lavoro sulla propria voce di studio approfondimento e di adeguamento allo standard dell'italiano appunto toscano un po riveduto e corretto che è il nostro nazionale e poi chiaramente mettere questa voce alla prova espressiva quindi alla prova delle emozioni e solo se fai questo se hai un training opportuno in questo senso puoi sognarti di mettere la tua voce sopra il volto di un altro e sopra il volto oggi di uno ma domani di un altro completamente diverso e così via perché farlo da professionisti non significa farlo una volta sola naturalmente e quindi quindi bisogna studiare bisogna prepararsi ma comunque al momento è vero siamo in emergenza però almeno la dizione la lettura espressiva si potrebbero e qui apro una parentesi diciamo personale e approfondire anche online io sono disponibile per questo scontando anche molto il corso specifico cioè dizione e lettura espressiva quindi almeno le prime basi in attesa che l'emergenza poi consenta più movimenti si possono curare anche online da quando è iniziato all'oggi come è cambiato la visione del mondo del doppiaggio? è come è cambiato? è cambiato che il doppiaggio è un lavoro artigianale quindi più tempo c'è per farlo e migliori sono i risultati e questo ovviamente però confligge a volte o comunque spesso e purtroppo sempre più spesso con le esigenze invece aziendali dei committenti che vogliono i prodotti insomma fatti con una certa velocità commerciale che qualche volta può essere nemica della qualità poi uno per carità lo sforzo magari una volta lo fa il problema è che quando tu gli fai una volta lo sforzo di fargli un lavoro in tempi minori allora subito scatta ecco hai visto che ce la fai anche in tempo minore allora d'ora in poi lo farai sempre così in tempo minore e allora capisci che è poi un discorso che fatalmente va a influire negativamente sulla qualità del prodotto hai giocato mai un videogioco che poi tu hai dato voce? ti sei visto? ti sei ascoltato? no 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 io non sono affatto un videogiocatore anche se la mia voce come hai ricordato è spesso presente nei videogiochi quindi non saprei una volta solo ho giocato ma in un format particolare del mio collega Maurizio Merruzzo e ho preso parte alla prima puntata di questo format che era insomma lui dialogava giocando a un videogioco con altri colleghi doppiatori e praticamente li intervistava mentre era in diciamo in azione però anche una sfida sul videogioco io lì boh ho fatto quello che ho potuto perché non avevo praticamente mai preso in mano un joystick ecco quello che io chiamo ancora joystick come si chiamava secoli fa e quindi temo che mi abbia lui a un certo punto fatto vincere qualche scambio insomma era tra l'altro un gioco dei Cavalieri dello Zodiaco però non c'erano le nostre voci italiane perché i Cavalieri dello Zodiaco in Italia nei videogiochi non sono mai stati doppiati e io dico per fortuna perché a volte succede che nei videogiochi cambiano le voci e quindi mi avrebbe dato molto fastidio diciamolo pure tutta com'è per cui il fatto che non ci siano giochi, videogiochi dei Cavalieri dello Zodiaco doppiati in italiano mi va benissimo non ti sto a strellare i fulmini ma ti sto a fare proprio una cosa molto meno faticosa da un personaggio che si chiama Giotaro Cugio quindi dall'anime le bizzarre avventure di Gio Gio e uno dei suoi modi di dire più diciamo frequenti e anche se vogliamo più brevi è questo ma pensate ecco 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 ecco